Claudio Morpurgo, studio Morpurgo Associati, avvocato dell'anno per il contenzioso. Secondo lei, avvocato, quanto contenzioso oggi riesce ad essere risolto per vie stragiudiziali, quindi con accordi transattivi? Mi pare che la tendenza sia quella di evitare il più possibile il ricorso al tribunale. Devo anche dire che in realtà non è così frequente che certe questioni di particolare rilevanza vengano risolte al di fuori di quella che è la sua sede necessaria, che è quella davanti a un giudice. E quindi quella è la tendenza? Secondo me la tendenza è abbastanza equilibrata, nel senso che alcune vicende non possono essere risolte facilmente al di fuori di un contenzioso vero che è il contenzioso davanti a un giudice. Grazie mille, avvocato, congratulazioni.